Vai, Ciac te ripiglio! Tu vedi una botta, quello che fermo vedi una botta Ma perché non si riesce a iniziare? Puoi iniziare? Ciac si si, uno, due, tre, prova, sta a San Basilio Piacere sole, uno, due, tre, Ciac, Simone vai vai Carbonara.it.com, dai Allora Allora, per fare la carbonara, annullate i spaghetti E piate i rigatoni Perché la roba rimane accastrata dentro Se no con i spaghetti, quando hai più i po' Se no c'è lo spaghetti e cucchiaro, ma è più difficile Allora, poi Numero uno rigatoni Poi Possibilmente belli ardenti Ardente? E non me li scontri, io De Cecco Allora Poi ce vuoi Ardente o ardenti? Ardente Allora, poi ce vuoi E subito subito Ma non ti sei presentato Ah, io ero Simone E lui vai da battaglia e città Allora Allora Poi ce vuoi Annullate subito la pancetta E per gente antica E ce vuoi Che? Che? E riguanciare E riguanciare No, e riguanciare Possibilmente quello con un bel po' di grasso Cioè è bello grassoso Ma più grassoso è meglio Ok Fallo a brusoli bene 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 Un goccio di grappa ce vuoi E' certo E' certo E' certo La grappa sta bene dappertutto Dappertutto Perché? Perché c'è una cosa dietro Sta bene sul polo, sul conio Non venne più in dito La grappa Un goccio di vino La grappa è uguale Un'aspirino Allora Grappo Allora C'è muo il pancetta Fallo bene rosso Bene 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 E senti facile Ha fatto un scacco matto Scacco matto Poi Poi c'è muo Leva il parmigiano E il parmigiano Ammaloppa tutto Aspetta Intanto vi piace fatta Quando sbattete Lenta lenta O con i tocchi di... Con i tocchi Antichi, se fa lenta, se fa lenta, 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 lenta. Non hai capito un cazzo. Se fa lenta, che è buona. Noi, tocchi, no. Che sta a fare, stracciatella. Allora, scusa. Allora, ce l'ho, l'uovo che deve essere, no proprio acqua, ma deve essere bello liquido, capito. Bello liquido, ma come se fa il liquido, è quello di dirmi moglie, io non lo posso dire. Allora, ce l'ho bello liquido e poi non ce l'ho il parmigiano, ce l'ho il pecorino romano. Lei dimentica il parmigiano, quello abbiamo già detto. Eh, ce l'ho il pecorino romano. Poi, mischi tutto. Ma non c'è il romano. Eh, come c'è il pecorino romano? C'è, c'è, c'è. No, che c'è. Poi, mischi tutto, mischi tutto, mischi tutto. Quando è bello amalgamato, ci butti la punta del pepe. E se forma quello strato giallo e bianco, perché il giallo è l'uovo e il bianco è... Il giallo è l'uovo, il bianco è... Il giallo è l'uovo, capa, capa, capa. E' il pecorino. Il giallo è l'uovo, è quella punta del bianco che vedi ogni tanto, però che non si impregna. E' il pecorino. E' il pecorino. Se voi mi fate queste cose... Ce l'ho trovato il parcheggio. C'erano tre cose. Riccato, pecorino, facciale e uovo. Spattuto. Voi i tempi di costruzione sono inizio. Francesca, quante delle cose? Sì, ma... Quante delle cose le facciali? Quante delle cose le facciali? Quante delle cose le facciali? E' un inferno, ieri. Rosolato. Poi? Eh sì, in questo momento, perché ho bisogno anche... No, per farlo ridículo. Francesca, quando devi sbattere l'uovo? Sì, sì, sì. No, loro... No, loro fanno un armato pane. Un disinfettamento, no? I tocchi le trovo così. Ma si vede che non abbiamo fatto l'allontale. Ma come? Noi stiamo registrando che stessere dobbiamo cucinare. Ci siamo messi bene. No, non l'hai mai fatto la passione. Vabbè, però... Gliatemi l'estami. Gliatemi l'estami. Gliatemi l'estami. Gliatemi l'estami. Ha una buona dialettica, però. Eh. Provate a farlo così. Con rigatoni. Con il pecorino romano. Con il guanciale. E andavamo un po' così. No, noi siamo messi bene. Che parecchie basse. Guarda che ho fatto provare. L'ho fatto provare. L'estami è un po' così. No, ha visto l'altro giuabba. E... Come si chiama? Che c'è la vista? Domani si... Si, si. Domani ci siamo qui. No, aspetta. Miki. Miki, Miki, Miki. Miki. Mi ha detto provare. Ma ha detto già poi che ti ammassa quanto è buona. Ok. No, beh beh. Mi ha detto così. Ma che ti ammassa... Quello è bolognese. Mi ha detto... Tu fai sempre sull'estami. Mi fatti un po' di regalo. Eh. Mi fatti bene. Eh. Invece poi che fai la matriciana ci fai sempre smacciando. Il vino? Il vino cosa consigli? No, il vino... Ti accompagno? Eh, si. Cosa ci beviamo insieme? Bianco. Allora... Cosa? Eh... Bianco. A me... Il filo con buono è il greco del lupo. Io le posso dire... Il filo con buono è il greco del lupo. Il filo con buono è il greco del lupo. Quindi... Va bene. Dai. Ma quale vado a fare sera? Stasera. Stasera ti regalo il compriano. Ando a? A casa mia. Credo. Prendeteci il verdicchio delle vele. Eh? Adesso ora. Il verdicchio delle vele. C'è anche una coppia. Eh, però mi ha fatto ridere la coppia. Come scusa puoi ripetere? Il verdicchio... Stasera di ieri e le vele. Ok. Costo? Preventivato? 8-9 euro. Ammazzau. 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 Bene. E poi che bevate per se tutto? Basta. Ammazzau. Che è? Chiusa. Eh.